Altri casi, anche questi un po' controversi, è ad esempio il caso di un legato, mentre in questo caso parliamo di esperienze interamente online, se vogliamo passare un po' un'integrazione tra attività del museo, bruttissima l'espressione dire attività offline, però ormai l'ho detta, e l'attività online è stata, all'interno del museo noi abbiamo un laboratorio di ricerca sulle nanotecnologie aperto al pubblico, nel senso che i due ricercatori dell'università lavorano, hanno il loro laboratorio a vista sul pubblico, e la cosa carina è che tutti i visitatori del museo possono passare di lì, sono proprio spinti ad andare a rompere le balle ai ricercatori, quindi possono schiacciare un pulsante, gli fanno suonare una cosa, loro aprono la porta, li portano dentro, spiegano la loro ricerca, è un progetto molto bello e funziona bene. Quello che noi abbiamo fatto per integrare questo è che abbiamo, visto che ci piaceva questa idea dei ricercatori che parlano direttamente al pubblico, abbiamo creato un blog curato direttamente dai ricercatori, nei quali loro possono scrivere, tenere un loro piccolo diario, delle loro attività che fanno, e parlare direttamente al pubblico. Qui vedete alcune immagini. In questo caso noi abbiamo poi legato questo blog ovviamente alla nostra pagina di Facebook in modo per dargli una maggior visibilità. In questo caso è interessante il fatto che abbia creato non tanto un grande dibattito di contributo sul blog, ma abbia spinto molte più persone a venire a incontrare i ricercatori lì, con già delle domande pronte per cose che avevano letto sul blog, soprattutto questo da loro compagni dal mondo della ricerca, non compagni nel senso persone che loro già conoscevano, ma nel mondo dei ricercatori hanno seguito questo blog con grande attenzione e le hanno spinti molto di più a venire al museo per vedere questo laboratorio, incontrare con loro, creare dibattito. E questa è una cosa che ha funzionato molto anche perché comunque per noi la prima finalità sempre comunque è quella di portare persone al museo e questa è sempre la cosa più importante. Non si può ovviamente, trattando questo tema, non parlare del tema dei social network. I social network sono su tutto questo argomento un'occasione enorme perché fanno ritornare un po' quell'emozione che io mi ricordo si aveva i primissimi anni quando lavoravamo, avevamo creato il sito web, di quell'esperienza del fatto che ai tempi, so che oggi suona strano perché sono passati così tanti anni che sembra strano, ma il mettere semplicemente un indirizzo email del museo a disposizione dei visitatori che potessero scrivere e fare delle domande era una cosa che aveva rotto un muro, nel senso che molti visitatori ci scrivevano all'indirizzo email del museo dicendo che bello che finalmente possiamo parlare direttamente a un'istituzione, cosa che ai tempi fino allora non era una cosa molto fattibile perché una persona andava al museo, parlava con la persona all'ingresso, telefonava, parlava con un centralino, soprattutto per un'istituzione molto grossa come la nostra. E ai tempi questa emozione del dire avere un'email e la persona può scrivere l'email era una cosa che era piaciuta moltissimo agli utenti. Questa emozione un po' si ricrea con i social network, ovviamente si sono spostati gli anni, spostato il contesto e soprattutto cambiate anche le possibilità che vengono date da questi strumenti. Quando io ho aperto la pagina Facebook del museo, quello che io ho chiesto internamente al museo è stato quello di essenzialmente di avere un po' carta bianca, che non vuol dire poter fare un po' tutto quello che mi pare, ma semplicemente poter avere la possibilità di non dover far vagliare i testi di quello che mettiamo, del dover fare giri di controllo delle sette campane su ogni cosa che decidiamo di comunicare. Perché se perdi l'immediatezza, se questi strumenti hai perso tutto, cioè diventa semplicemente un canale in più nel quale le stesse cose che metti sul sito le metti lì e visto che ovviamente quando noi facciamo una pagina di presentazione di una nuova mostra, cose di questo tipo, ovviamente il mio ufficio non si inventa nulla, lavoriamo a stretto contatto con i curatori, con chi si occupa dell'ufficio stampa e crea questi materiali. Nel caso dei social network io ho detto se mi mettete questo vincolo perdiamo tutta un po' quell'immediatezza di possibilità di comunicazione che questo strumento ci dà. Questo mi è stato dato e ne è nato in verità un esperimento abbastanza interessante. Io cerco di non essere mai molto martellante su Facebook di non fare tantissimi aggiornamenti per non dare fastidio, cerchiamo di sfruttarlo un po' per cercare di creare un coinvolgimento da parte dei nostri visitatori su alcune delle nostre attività. Per fare un esempio noi abbiamo avuto l'anniversario dell'arrivo del sottomarino a Milano un anno fa, non mi ricordo, circa un anno fa e abbiamo fatto tutta una serie di attività su Facebook nel quale chiedevamo ai visitatori di darci un loro contributo e un esempio di questo erano dei piccoli concorsi nel quale uno di questi avevamo fatto un po' come il Totti di Amelie, nel senso che ognuno si poteva stampare una sagoma del sottomarino e avevamo detto mandateci delle foto facendo viaggiare il sottomarino un po' a vostro, il sottomarino licantropo alla luna e la gente ci ha pubblicato sotto coperta un divieto di sosta e così via. E noi poi abbiamo premiato ovviamente tre di quelli che ci sono piaciuti di più, li abbiamo premiati e lo stesso anche uno poteva fare un disegno legato al sottomarino. Abbiamo fatto tutta una serie di piccoli giochi e di concorsi ovviamente sempre un po' dando qualcosa in cambio, che questa è una cosa abbastanza importante, cioè quello che noi cerchiamo sempre di fare quando noi chiediamo un contributo è quello di dare qualcosa in cambio. Questo dare qualcosa in cambio non è indispensabile che sia chissà che cosa, anche molto banalmente anni fa quando avevamo chiesto, ho fatto un piccolo questionario online per darci alcune risposte su alcuni cambi che avevamo fatto sul sito per avere un po' di feedback da parte dei visitatori, davamo molto banalmente una cosa che ai tempi si usava, oggi sembra totalmente dei modè, degli spondi per il desktop del computer alla fine scaricabile. Piccole sciocchezze però per dire io so che se ti chiedo un coinvolgimento qualcosa ti do in cambio. E questo facciamo molto regolarmente su Facebook, molto banalmente dando ingressi omaggio al museo e questo lo facciamo ogni settimana, ogni settimana noi facciamo delle piccole domande online a scelta multipla, le prime due persone che rispondono vincono una coppia di ingressi omaggio, lo stiamo facendo ad esempio in questo periodo che abbiamo questa mostra sull'alimentazione molto molto bella che vogliamo tanto lanciare, noi ogni settimana facciamo una domanda sul tema dell'alimentazione da domande prese dall'interno della mostra, quindi sul contenuto della mostra, quindi un'occasione anche poi per mettere piccole pillole di contenuto, le prime due persone che rispondono vincono degli omaggi per entrare. Quello del coinvolgimento e quello di far sentire le persone partecipi in questa cosa è un percorso difficile e lungo, anche su Facebook per noi è, anche sui social network per noi è soltanto un percorso all'inizio perché tante, riuscire a sentire veramente tante persone presenti in queste cose non è facile, per dire molto banalmente quando noi facciamo i piccoli test per vincere delle cose, abbiamo una risposta immediata di tantissime persone. Quando chiediamo già qualcosa di più, tipo le cose del Toti, foto e il disegno, è già molto più difficile riuscire a trovare in quel coinvolgimento, ma va bene, ci sta, per noi va benissimo così. L'importante è su questo genere di cose quello di esserci, cioè quello di fare spesso e regolarmente delle attività in modo tale che le persone sappiano che regolarmente, legato a un certo tema, a una nuova cosa che facciamo, ci può anche essere quell'occasione di partecipazione, di scambio, di confronto perché soprattutto è una delle anime portanti di tutta l'attività del museo e questo al fine è sempre una cosa indispensabile, nel senso la nostra attività non si discosta mai da quella che è la finalità globale del museo e il museo cerca sempre il coinvolgimento del pubblico nelle proprie attività, nell'attività all'interno del museo e quindi quello che cerchiamo di fare anche noi. Solo due minuti chiudo per un'ultima cosa sulla quale stiamo lavorando adesso. Mi è venuto in mente prima quando si parlava degli archivi online, noi stiamo lavorando adesso un grosso progetto che all'inizio mi aveva un po' spaventato su tutto uno studio, un lavoro di ricerca sugli archivi del museo, il museo ha al suo interno una maria di archivi e documenti del CNR e ci è stato chiesto di dare una restituzione online di questo grosso mole di lavoro e di ricerca. La cosa mi aveva un po' spaventato perché erano tematiche molto toste, cioè una cosa è mettere un archivio consultabile online per specialisti, un'altra cosa era fare qualcosa che fosse un po' per tutto il pubblico generico, soprattutto perché i temi scelti da questi lavoro di ricerca erano sul tema dello zolfo ad esempio e quindi molto del documento che mi era arrivato era sulla storia dello zolfo. Noi possiamo fare un bellissimo sito sulla storia dello zolfo, potete immaginare che il target sarà molto molto ristretto. Va benissimo, basta decidere che si lavora per un target molto ristretto. Invece ci è stato chiesto di fare una cosa per un target più ampio. Quello che stiamo cercando di fare è quello di spostare un po' il piano di approccio a questo progetto, cioè quello del lavorare soprattutto sul fascino che ha l'immaginario della ricerca sull'archivio. Cioè l'idea che il museo abbia avuto per tanti anni un archivio di documenti anche di grande valore che nessuno aveva più studiato e che poi delle persone specialistiche sono andate a aprire, a guardare e a leggere questi documenti e tutto quello che hanno capito da questi documenti è invece una cosa che ha un fascino su un target più ampio e quindi noi stiamo lavorando adesso proprio per trasmettere questo fascino della ricerca sul documento. È legato anche alla partecipazione per il fatto che quello che noi faremo, visto che il progetto è lungo ci metteremo un po' a fare tutta la messa online, ma quello che noi faremo è cadenzare delle piccole pillole di contenuto da questa ricerca d'archivio e fare dei piccoli concorsi utilizzando tutti questi strumenti di coinvolgente del pubblico e chi vincerà questi concorsi potrà venire in un fine settimana a fare un percorso all'interno dell'archivio con i ricercatori che hanno fatto ricerca su quei documenti nel quale proprio verranno aperti i faldoni, fatti vedere i documenti storici e il ricercatore spiegherà in che modo si è approcciato a quel documento e questo ecco sono quegli esempi di cose così come su Facebook qualcuno vinceva la visita sul sottomarino infatti dal direttore del museo, sono quelle piccole cose nel dire chiede un coinvolgimento tu partecipi alla cosa e poi noi ti portiamo anche nel retroscena, entri a far parte un po' della vita del museo, queste sono cose che hanno sempre un'ottima risposta. Grazie mille. 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 Grazie a tutti.